C'è chi comprende e chi lo comprende? C'è chi lo comprende. S'ha venuto bene chi lo comprende e chi? Alla fine. Si trompa sempre di chi è senza volontà. Chi comprende, infatti, dice, io non penso a tutti gli stessi, io non penso a tutti gli stessi, io non penso a tutti gli stessi. Penissimo. Ma al fatto tutto il sapore della vita è tutta la possibilità. E questo ci dottorei cosa significa che non avete bisogno di chi è giusto. Perciò, non avete bisogno di chi è giusto. Caro e su Dio.